Salve a tutti e ben ritrovati a questo corso sulla legalità che si compone di diversi filmati. Siamo arrivati al quarto filmato e il quarto non è altro che la prosecuzione dello stesso argomento affrontato nel terzo e cioè le indagini. Quindi siamo partiti da quest'idea del poliziotto romantico che ha un fiuto eccezionale per arrivare a scoprire l'assassino o il colpevole in generale per poi elencare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione delle forze dell'ordine per arrivare a trovare le prove necessarie a incastrare il colpevole. Bene, in questo quarto filmato continuiamo l'elenco di questi strumenti che servono proprio a rintracciare il colpevole. Seguitemi. Ci eravamo lasciati parlando di Luminal Test, ossia di quell'esame che serve per scoprire le tracce di sangue nascoste. Ora passiamo a uno strumento direi piuttosto famoso insomma ed è il MetaDetector. Il MetaDetector che dal nome stesso serve a segnalare la presenza di oggetti metallici che possono essere immaginate e sepulti anche sotto terra. Ecco questo strumento fu utilizzato dagli americani sin dalla seconda guerra mondiale che l'utilizzarono appunto per individuare le mine e le armi nascoste. Al giorno d'oggi i MetaDetector sono molto maneggevoli, sono molto facili da usare e sono sicuramente molto utili perché consentono appunto di rilevare gli oggetti, pensiamo ai coltelli, alle pistole e anche di rilevarli in presenza di una fita vegetazione a occhio nudo si farebbe fatica. Pensiamo all'importanza di rintracciare un telefono cellulare o comunque altri oggetti metallici appartenenti a persone scomparse. Parlando di forza dell'ordine dobbiamo citare la nascita nel 2005 di una nuova sezione investigativa all'interno della polizia scientifica e si tratta dell'ERT, appunto gli esperti della ricerca tracce. Si tratta di un gruppo di agenti altamente specializzati e sono quelli che intervenendo sulla scena del crimine e grazie appunto a strumenti scientifici di ultimissima generazione sono in grado di raccogliere anche le prove più difficili, le prove più nascoste. L'ERT quindi è composto da persone, dicevo, estremamente specializzate come biologi, chimici, dattiloscopisti che sono poi i lettori di impronte digitali e gli esperti di armi. Loro sfruttano la massima tecnologia possibile e disponibile per riuscire a rilevare tutto e di più dalla scena del crimine. L'arma dei carabinieri ha una sezione istituita qualche anno prima, nel 1999, i famosi RIS, reparti di investigazioni scientifiche, che come i loro omologhi poliziotti sono dotati di apparecchiature estremamente sofisticate per arrivare a rilevare le prove. Quali sono questi strumenti, queste apparecchiature, il raggio laser, i microscopi ottici, ecco vedete qua c'è un esempio di microscopio ottico, il georadar, quindi sfrutta la tecnologia GPS, il crime scope, che è un sistema di illuminazione che evidenzia tutti i tipi di impronte possibili. Ecco, il crime scope, l'uso del crime scope ha risolto il problema delle impronte latenti, cioè quelle di vecchia data che non sono immediatamente visibili. Quindi il crime scope cosa fa? Emettendo raggi ultravioletti rendono fluorescenti le vecchie impronte, che non sono rilevabili in altro modo. Le intercettazioni, quelle di cui si sente parlare più spesso, sono quelle telefoniche. Anche qui occorre fare un breve escurso storico. Il primo caso in cui furono utilizzate è datato 1928, a cura dell'FBI, quindi siamo in America. L'FBI incastrò un noto contrabbandiere di alcol, spiando proprio le sue chiamate dall'ufficio. Va detto che al tempo la Corte Suprema degli Stati Uniti annullò la validità dell'indagine, perché si riteneva che i poliziotti avessero violato la privacy del criminale. E così, solo previa autorizzazione del giudice, da allora la polizia potè ricorrere alle intercettazioni telefoniche per le loro indagini. Bisogna tener conto comunque che la tecnologia ha fatto passi da gigante. Quindi la semplice intercettazione telefonica non è più sufficiente. Ci sono nuove forme di comunicazione. E quindi gli investigatori si sono adeguati attrezzandosi per le intercettazioni informatiche, che è compito della polizia telematica, affinando poi anche le intercettazioni ambientali con microspie o telecamere sempre più piccole, minuscole e ricettive, quindi potenti, capaci di cogliere il segnale acustico. E infine l'esame del DNA, di cui si sente parlare molto spesso, visto che ogni parte del nostro corpo è composta da cellule, perciò per ottenere il DNA di un individuo è sufficiente un pelo, un capello, una goccia di saliva, di sangue, di urina, un dente, un lembo di pelle, eccetera. Ecco che allora, rilevando uno di questi elementi, si può risalire al DNA del soggetto. Tenendo conto che però l'esame del DNA può non essere sempre infallibile. Ci possono essere degli errori e allora ecco che anche con il DNA bisogna usare la massima circospezione e la massima attenzione per non sbagliare, insomma. Ecco, questo signore che vedete nella fotografia è Sir Alec Jeffries. Questo genetista, questo benemerito genetista, è riuscito a fornire ai giudici la prova che un bimbo, privo di alcun documento che era giunto dal Ghana, per ricongiungersi con la madre, era davvero suo figlio. Fu una cosa molto importante perché c'era il rischio che il bimbo dovesse essere rispedito in Africa. Sir Alec Jeffries provò appunto attraverso l'esame del DNA che il bambino era veramente il figlio di questa signora emigrata nel Regno Unito. Bene, con questo è tutto, per questa quarta parte ci si vede presto con un filmato dove indagheremo, andremo appunto a indagare la metodologia usata negli interrogatori e la costruzione dell'identikit del colpevole. Grazie e a presto. Grazie. 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 Grazie.